è più forte di me Baldi, sapete già che quando sento il suo nome, quando si parla di lui vuoi o non vuoi non posso esimermi e devo dire la mia su quelle che sono le dichiarazioni di Nedve su quella che è la stagione e su quello che è il futuro di Paolino, Paolino, Paolino e in questi giorni il suo nome torna in auge ed eccoci qua prima di ogni cosa buongiorno Baldi Giovani, buongiorno amici miei tre cosette veloci veloci veloci, la prima lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella se volete essere aggiornati sui miei prossimi video a proposito dei prossimi video, ditemi un po' la vostra, cosa volete sentire vi faccio decidere anche a voi l'argomento, futuro di Vidal che parla di Flamengo ma non nel Flamengo, squadra, Donnarumma al Milan, rinnovo qualsiasi argomento, dai faccio decidere a voi, iscrivetemelo magari sotto e prima di partire scarichiamo anche l'app OneFootball per rimanere aggiornati che c'è questa roba, per rimanere aggiornati ad H24 sulle varie news legate al mondo del calcio per essere lì sul pezzo, per avere ogni notizia a portata di mano ma noi a proposito, ecco magari le dichiarazioni di Nedved, con OneFootball già le avete lette link in descrizione all'app gratuito non lasciamo nulla al caso, siamo nell'era dei social, siamo in un mondo che va veloce e quindi dobbiamo essere... vabbè, ragazzi baldi giovani Paolo Di Bala, partiamo dalla dichiarazione di Nedved le vado a prendere, già sicuramente, visto che arrivo con estremo ritardo me la prendo comoda alcune volte cosa ha detto? cosa ha detto sul giocatore? c'è mancato, credo che quest'anno non abbia disputato più di 800 minuti con noi sono pochissimi, ho un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che già già detto, quello che hanno già detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli ma, ecchia, il ma, già quando c'è un ma, quando c'è un ma, quando c'è un però, quando c'è un se ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato ecco, un discorso che non è stato fatto con Ronaldo un discorso che non è stato fatto con Pirlo, anzi Nedved ci ha tenuto proprio a confermare sia il primo che il secondo mentre su Di Bala è chiaro che questo appare come una sorta di silurazione chiamatela come vi pare, se arriva l'offerta buona ce lo leviamo ecco, la stagione di Di Bala sicuramente non è stata eccellente anzi, tutt'altro, praticamente ha giocato pochissimo ma, voi o non voi, quelle poche volte che ha giocato io ricordo la partita con il Milan, no, dove una sua giocata comunque porta la Juventus in vantaggio è un giocatore che incide, c'è poco da fare non a caso l'anno scorso è stato eletto miglior giocatore della Serie A a mio modo di vedere, indubbiamente, il migliore per come è stato decisivo perché poi l'anno scorso di Bala è stato decisivo e non neghiamolo prendo ad esempio le due partite con l'Inter dove vuoi o non vuoi ci mette lo zampino dove vuoi o non vuoi ti tira dal cilindro il coniglio ed è un giocatore che è stato decisivo cosa significa? quando sei decisivo vuol dire che sei un giocatore forte vuol dire che sei il fuoriclasse della squadra sì, perché poi lo sottovalutiamo ma la Juventus quest'anno è mancato il fuoriclasse ed è mancato di Bala non un giocatore qualunque ripeto, il giocatore che ti fa la differenza come te la fa Ibramina come te la fa Luca con l'Inter come te la fa Immobile alla Lazio come te la fa Caputo al Sassuolo le dovute proporzioni perché no? ma davvero? è mancato il fuoriclasse della Juventus è mancato Paolo di Bala e non è poca roba credo che non sia poca roba nonostante si tratti e si parli di Juventus un giocatore importante quindi questo se arriva l'offerta buona non che abbia detto così però traducendo il concetto pare essere abbastanza chiaro e palese ecco poi non sappiamo se questi infortuni potevano in qualche modo essere gestiti meglio perché il giocatore vuoi o non vuoi si parla che sta bene però allo stesso tempo non può fare quei movimenti altrimenti gli viene subito un'infiammazione non ci ho capito niente devo essere sincero ne abbiamo parlato ne abbiamo discusso anche in passato non lo so è anomala la stagione di Di Pala è innegabilmente anomala su questo credo che siamo tutti d'accordo ma io un giocatore del genere quando sento che che lì in qualche modo sul mercato io fionderei ogni mia risorsa per portarlo per portarlo a casa sapete bene quanto mi piacerebbe vederlo in nero azzurro non immaginate veramente una coppia di Pala-Lukaku o di Pala-Lautaro sarebbe tanta tanta roba se si alternassero in qualche modo o tutte e tre insieme ma credo più uno dei due lasciamo non mi fate sognare perché poi poi mi prendono non mi fate sognare non mi fate sognare più di tanto ma 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 facendo il ragionamento inverso io credo che la Juve la Juve non deve cioè se ha la possibilità di 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 rinnovare se ha la possibilità in qualche modo di 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 tenerlo io io cercherei veramente di non di non perdere l'occasione perché perché è un giocatore è un giocatore di un altro non c'è nulla da fare e si parla di un possibile scambio con il Barcellona per per fare plus valenza magari con Griezmann io metterrei di Bala si parla di Chelsea e si parla di Tottenham quindi delle inglesi ma pur volendo forse anche l'Arsenal quindi le inglesi che hanno un po' di cash però si parla di offerte di 45-50 milioni vista la stagione per 45-50 milioni un giocatore che l'anno scorso ne valeva almeno il doppio io io non lo cedo io non lo cederei mai e dico mai a queste cifre per me questa è una cifra folle è una cifra folle nonostante la stagione di di Paolo Di Bala quindi francamente francamente ci penserei due volte se fosse se fosse nella Juventus vediamo 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 zio Marotta casomai tu comunque lo sei bene sei meglio di me se ci vuoi buttare un occhio se può fare qualcosa e mele di te è un'amicizia che sai già lo conosci il piccolino la gioia la gioia vedi un po' che è qui va bene Bart fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate leccate se vi va iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschi ciao